L'89esima donata nazionale, ancora una volta la presenza della sezione di Bergamo. Sarebbe un assurdo non esserci innanzitutto e poi siamo qua a due passi, spero che gli alpini bergamaschi vengano non numerosi, numerosissimi, che riempiano la città di Asti perché merita per quel poco o tanto che abbiamo già visto nella passata edizione a Asti, Asti merita una bella presenza. Dall'Aquila ad Asti, questa grande adunata che viene a 21 anni dopo la presenza della protezione civile bergamasca qui nella terra astigiana e alle Sandrine in occasione dell'alluvione, ma soprattutto in questo anno la sezione di Bergamo ha svolto parecchie attività. Con la protezione civile sapete benissimo che ci sappiamo muovere e Bonaldi nella testimonianza più diretta e a memoria di quella data credo che vedremo il nostro Antonio Sarti che all'epoca rivestiva il ruolo che adesso riveste Bonaldi e era qua a lavorare in quei frangenti, in quei momenti, penso che per tanti, non solo per Sarti sarà un momento di ricordo. Sappiamo che la sezione di Bergamo è sempre attiva in molte attività anche fuori da quella che è la protezione civile, quali sono le più importanti e soprattutto che cosa ha in programma ancora la sezione di Bergamo? Quest'anno è il 95esimo della sezione, abbiamo messo in cantiere diverse cose, vedremo inaugurare l'orto solidale che servirà anche ai nostri ragazzi della casa di Endine, faremo delle bellissime mostre di carattere alpino e di carattere legate alla montagna, abbiamo fatto un fiume sicuro straordinario in città, penso che Bergamo saprà muoversi e sa muoversi e vedremo, abbiamo qualche bella mostra nostra e sarà una bella adunata sezionale. Grazie.